Fino agli anni Ottanta le imprese in realtà non avevano bisogno di marketing, ma il motivo qual era? Il motivo era che la domanda di prodotti in tutti i mercati era superiore all'offerta di prodotti e quindi per aver successo era sufficiente essere presente in un mercato e saper produrre. Il mondo è totalmente cambiato a partire dagli anni Ottanta, soprattutto nelle economie occidentali. Che cosa è accaduto? La domanda di prodotti piano piano è diminuita rispetto all'offerta. L'offerta di prodotti è cresciuta e le aziende per aver successo hanno dovuto dotarsi di strumenti di marketing. C'è una frase oggi di Bill Gates che ben caratterizza questo contesto. Dice il successo delle imprese, degli uomini e dei prodotti dipende dalla capacità di comunicare e tessere proficue relazioni. Allora la domanda che vi facciamo è qual è il segno che noi lasciamo nel mercato? Alle mie spalle vedete un grande fregio, un grande logo che lascia un'impronta importante in chi lo vede. Beh, tu azienda, organizzazione, impresa e anche persona devi essere in grado lo stesso modo nel mercato di lasciare un'impronta indelebile. Il nostro software Marketing Plan System ti aiuta a sviluppare i passi per poter essere vincente. Grazie. 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 Grazie.